Questa mattina i vigili del fuoco volontari di Cornier hanno festeggiato Santa Barbara. Sì, abbiamo fatto messa e adesso un rinfresco nella caserma. Abbiamo consegnato una targa di riconoscimento al ex capo di staccamento, Cresto Walter. Abbiamo ringraziato anche la famiglia Perino-Vironda, con la donazione che hanno fatto abbiamo preso l'esplosimetro. È stato lanciato un appello, hai lanciato un appello durante il discorso di Benvenuto, che riguarda un mezzo nuovo che fermo lì da marzo. Sì, purtroppo abbiamo un mezzo, un Ford Ranger allestito con modulo boschivo e una piccola attrezzatura, però il problema è che siamo in alto mare con parte burocratica. Sì, quindi devono riuscire ad arrivare le targhe, però purtroppo la burocrazia allunga tutto. Sì, sperando in primavera che consegnino le targhe per fare l'inaugurazione. Presenta anche il nuovo sindaco di Cornier, Giovanna Cresto, con la quale si è parlato di una collaborazione futura, di un confronto. Sì, è una collaborazione molto grossa, anche perché insieme agli ispettori del comando dobbiamo mettere in quadro la caserma, quindi ci va una grossa collaborazione con l'amministrazione. L'ha promesso quindi di buon auspicio? Speriamo, mi sembra un passo buono, vediamo. Il distaccamento di Cornier cerca come sempre volontari, che purtroppo è difficile trovarne. Sì, abbiamo fatto una piccola campagna per cercare volontari. Noi ne abbiamo già dieci in attesa di decreto, in attesa di corso, però è una cosa molto molto lunga. Io faccio un appello a tutti i giovani che avrebbero voglia di unirsi al nostro organico. A noi ci fa piacere, anche perché purtroppo siamo pochi e non riusciamo a coprire il territorio. A noi ci fa piacere, anche perché non riusciamo a coprire il territorio.